Un rifugio sicuro per i vostri cari. La Casa Famiglia per Anziani Sant'Antonio nasce alla fine del 2011 grazie al desiderio, alla forza e alla passione delle sue titolari. All'interno della struttura si trova un ambiente familiare, oltre ad uno staff altamente qualificato, che saprà consigliarvi ed assistervi in ogni esigenza. Disponiamo di stanze con doppi servizi, camere da letto da tre o quattro posti, un'area svago e televisione e di una cucina con piatti genuini, cucinati in base a prescrizioni mediche o diete personalizzate. La Casa Famiglia per Anziani Sant'Antonio è attrezzata anche per i portatori di handicap parziali o totali. Grazie a tutti!